secondo te mario rossi vale più di me forse sì ma che importanza ha commento l'affermazione del vostro valore rispetto a quello del fratello non ha nessuna importanza già che voi siete vostro fratello e vostro fratello e voi questo brano è stato comunicato dalle guide presso il centro spirituale frattocche il centro operava nei pressi di roma e aveva una caratteristica rara ospitava diversi strumenti nella stessa riunione e permetteva in alcuni casi il fenomeno delle trans parallele e grazie